Furto alla Trantis City di Campo San Giacomo rubati oltre 15.000 euro da parte di una stessa dipendente dell'attività, una donna di 40 anni di origine albanese. Sono Giulio Mendola, lavoro per la società che si occupa di raccogliere i soldi che poi vanno versati al concessionario, sono le tasse delle macchinette, delle slot. Ieri mattina mi è arrivato un messaggio strano da parte di questa dipendente della Sala Giochi che io conosco da tanto tempo, che lavora nella sala da più di 10 anni, nel quale mi si preannunciava che non avrebbe più lavorato e che si era presa tutti i soldi. Questo c'era scritto in questo messaggio un po' delirante. Poi ho saputo che aveva contattato il socio della Sala Giochi per riportargli le chiavi dicendogli che si era presa tutti i soldi, tutti quelli che aveva trovato nella sala e che non avrebbe più lavorato. Questo mezz'ora prima che io ricevesse il messaggio. Quando ci siamo trovati qui, io con i rappresentanti della Sala Giochi, abbiamo chiamato immediatamente le forze dell'ordine, la polizia, è intervenuta una volante e abbiamo spiegato che ci aveva sottratto 15.500 euro questa persona. Tra l'altro hanno visionato le telecamere, ma insomma lei è rea confessa, non è che nascondeva il fatto. La polizia ha detto che comunque, essendo passata più di un'ora o un'ora quello che era, non si era nell'immediatezza del reato, non c'era la flagranza e non potevano fare nulla. Dovevamo andare in questura per sporgere querela e dopo Dio vede, Dio provvede. Siamo andati in questura, abbiamo fatto sta benedetta denuncia, non si è saputo più nulla. Insomma, lei si è portata via 15.000 euro tra banconote di piccolo taglio, monete da due, insomma anche ingombrante come carico, da qualche parte li avrà portati. Se si interveniva con un po' di buonsenso nell'immediatezza dei fatti, anche dopo un'ora, due ore, insomma io credo che il mal tolto, che tra l'altro sono soldi dello Stato, non sono soldi nostri, sono soldi che andavano versati ieri a titolo di imposte, si sarebbe potuti rientrare del mal tolto. Però io poi non ho avuto più notizie, qua sembra calata una nube di segreto, non so cosa sia stato fatto, io credo, io credo per tutti i cittadini di questo paese che bisognerebbe avere delle risposte, io non so com'è possibile che uno prende, si porta via 15.000 euro e nessuno muove un dito. Io vorrei sapere in quale altro paese se succedeva una roba del genere, si finiva così. Io vorrei che qualcuno mi dicesse in quale paese uno può portare via 15.500 euro da un'attività lavorativa e andare via tranquillo e non succede niente. Se qualcuno me lo dice io sono qui, che aspetto?